Allora direi che possiamo iniziare Buongiorno a tutti, io sono Enrico Masala, primo nome che vedete sulla slide, il titolare del corso Applicazioni Web 1, questa mattina è la prima lezione La lezione è videoregistrata, sto videoregistrando sperando che tutto funzioni Ma insomma l'abbiamo già fatto altri anni quindi dovrebbe andare tutto bene E quindi direi che possiamo iniziare, comincio a raccontarvi qualcosa riguardo al corso di Applicazioni Web Sto seduto così la webcam mi inquadra bene, se sto in piedi poi comincio a muovermi magari non mi inquadra più Perché sappiamo che gli studenti piace vedere il docente nell'angolino Perché magari dalle sue facce si sa già, si capisce quando ci sono cose più importanti eccetera Quando uno magari va più veloce nel video eccetera Comunque, non sono l'unico docente su questo corso Anche se farò quasi tutte le lezioni in aula e un pezzettino di laboratorio Ci accompagnano in questo percorso il mio collega, il professor Antonio Servetti E il professor Fani che ci aiuterà principalmente in laboratorio Adesso parliamo più diffusamente della struttura del corso, di come funziona eccetera Queste slide le trovate già sul sito del corso Che è una cosa un po' particolare Ecco prima di partire magari andiamo a vedere proprio questa cosa Allora il sito del corso è il seguente Mediapolito.it barra slash av1 Dovreste essere tutti o quasi tutti iscritti al canale telegram Io ho messo un avviso sul portale del corso Quindi dovrebbe esservi arrivata una notifica con link da cliccare Per iscrivervi al canale telegram Che è la maniera più comoda Per rimanere in contatto In quel link Trovate poi un messaggio sul telegram Ma comunque anche nell'avviso Che vi porta a questa pagina E questa è la pagina ufficiale di questo corso Dove trovate tutti i link utili In particolare i primi tre Il primo è il github Che è quello che stavamo vedendo prima Che è accessibile tramite git Va bene Però è anche accessibile tramite una comoda interfaccia web Dove metteremo le informazioni relative al corso In particolare le slide Incluse quelle di stamattina Che già trovate lì Le slide E tutto quello che metteremo Sono facilmente scaricabili sia da web Quindi entriamo sul materiale del corso E ci saranno le slide di questa mattina Quindi introduzione al corso Ovviamente per l'introduzione ci sono tre set di slide diverse Perché questo corso va in parallelo con altri due corsi in inglese Quindi è l'ultimo E poi per il resto avremo delle slide allineate con i corsi in inglese Di questo comunque riparleremo Allora, detto dove potete trovare le slide Se avete il computer potete già fare accesso Magari le avete già scaricate Continuiamo sulle slide Verificando che tutto proceda per il meglio Per la registrazione E cominciamo a parlare di questo corso Dedicheremo questa prima ora e mezza Magari un pochino meno Poi facciamo pausa A descrivere il corso Con tutte le implicazioni del corso stesso Quindi in particolare come funzionano i laboratori E l'esame Che è la cosa che so già che vi preme di più giustamente Prima di tutto lo scopo del corso È capire qualcosa in più delle architetture web E cercare di essere in grado di sviluppare un'architettura Un'applicazione web In maniera diciamo un po' intelligente Forse qualcuno di voi avrà sicuramente già provato A mettere le mani in sistemi web Non è che ci va tanto a scrivere due righe di codice Lato server e lato client Per provare a fare qualcosa di dinamico in una pagina web Però qui cerchiamo di organizzare le cose in maniera Molto più Come dire Lasciatemi dire intelligente Ma insomma molto più organizzata E in particolare ci concentreremo sul lato client Per farciò dovremmo imparare bene Molto bene Il linguaggio che viene usato sul lato client Cioè nel browser Di queste cose riparleremo Successivamente però Cominciamo a introdurre E il linguaggio si chiama javascript Per usare al meglio javascript Come in molti linguaggi di programmazione Ci avvaliamo di Diciamo così di librerie E la libreria più diffusa Che abbiamo scelto di utilizzare In questo corso Già da qualche anno E che continua ad essere molto diffusa Quindi direi Abbastanza utile da conoscere Anche dal punto di vista lavorativo E questo react E quindi Più di metà del Metà del corso Sarà dedicato a parlare di react Quindi Come creare le applicazioni web Una volta che conosciamo il linguaggio javascript Tramite questa Chiamiamola pure libreria Framework è una parola un po' eccessiva Perché in realtà È una vera e propria libreria Però Framework è perché Intorno a react È nato e cresce Un ecosistema Quindi Un insieme di Altre librerie Altre cose che ci aiutano E si integrano bene Con react E come si diceva Special focus Quindi Attenzione molto particolare Al frontend Che è la parte Che sta Sul client Quindi il browser Quello che usate per navigare Tutti i giorni Su internet Ok Quindi abbiamo dato Un'idea di cosa vogliamo fare Nel corso Che peraltro è allineato Alla scheda Del corso Che trovate sul portale La didattica Noi ci teniamo molto A queste cose Quindi Se avete scelto Questo corso Forse non l'avete scelto Perché è quasi obbligatorio Però insomma Avrete magari scelto Tra italiano e inglese Che sono comunque Allineati come programma Noi facciamo esattamente Quello che abbiamo scritto lì Tutti gli anni Aggiorniamo la scheda Sentiamo il feedback Degli studenti Del CPD Eccetera Quindi se avete dei feedback Avete qualcosa da comunicarci Siamo qui pronti Ad ascoltarvi Questo corso Applicazioni web E il suo analogo in inglese Web applications Uno Tutti e due Uno Si inserisce in un percorso Probabilmente l'avete già visto Siete alla laura magistrale Dovete fare il vostro piano carriera O avete preso uno di quelli Già preconfezionati Avete fatto qualche piccola modifica Ma sapete che C'è un altro corso Che si chiama Web application 2 Erogato solo in inglese Un corso Che si chiama Human computer interaction Mi sembra A scelta Nei crediti liberi Un distributed system programming Un mobile application development Allora Questo è Come si inserisce il corso All'interno di questi cinque Siamo qui Ed è il punto più facile Perché questo è il punto iniziale Il punto di ingresso Se volete proseguire Dovrei prendere il mouse Adesso vediamo Se ce l'ho Se volete proseguire Potete andare Verso Il corso successivo Che noi consigliamo Essere Distributed system programming Perché parla un po' più Diffusimente Di architetture distribuite Noi le daremo Un pochino per scontate Perché Perché fondamentalmente Parliamo solo del client Faremo dei cenni Sì C'è il server Svilupperemo anche qualcosa Del server Perché ci serve Per far funzionare le cose Però C'è una tematica Molto più ampia Che riguarda Come programmare I sistemi distribuiti Che viene affrontato Appunto in questo corso Protocolli Eccetera Dopodiché C'è Web application 2 Che si focalizza Sulla parte back end Quindi quasi esclusivamente Lato server Quindi sulla questione Scalabilità Eccetera E poi ci sono Questi due corsi azzurri Un po' più Come dire Ortogonali A questi argomenti Uno è questo Human computer interaction Che si focalizza Più su come Progettare le interfacce Di interazione Con l'utente Di fatto noi Quando creiamo Un'applicazione web Stiamo facendo Un'interfaccia Con l'utente Perché chi è che la usa La usa l'utente Facendo click Muovendosi col mouse Oppure se Su dispositivo mobile Con il dito Con i vari touch E così via Quindi Noi ci focalizzeremo Su questo aspetto Proprio poco Perché non abbiamo Il tempo Il corso è da 6 crediti E vogliamo tenerlo 6 crediti Per la felicità Di tutti Incluso nostra E quindi Se volete Approfondire di più Questo aspetto C'è un corso apposta E se invece Vi interessano O vi interessano Anche Lo sviluppo Le applicazioni mobili C'è un altro corso apposta Dove Diciamo Parte dei concetti Che vedremo In questo corso Verranno ripresi Perché di fatto Un'applicazione mobile Molto spesso Quasi sempre interagisce Con un lato server Cambia solo La modalità di presentazione Perché sul dispositivo mobile Avete meno spazio Le cose più grosse Usate il dito Eccetera E quindi c'è C'è questione di consumi In quanto E così via Quindi ci sono tutta Una serie di aspetti Che noi non trattiamo E che verranno trattati In questo corso Ok Quindi Questo è Lo schema Dei corsi Nel quale Noi ci muoviamo Ma noi non abbiamo Troppa difficoltà Perché siamo all'inizio E quindi questo corso È la premessa Per tutto Cosa andremo a imparare Un po' più nel dettaglio Come vi dicevo prima Javascript È un linguaggio Quindi Ovviamente voi sapete Già programmare Tutti Quindi Non è che andremo A spiegare Come si deve Programmare Come si fa Nei cicli for Perché bisogna fare Il ciclo for Come si trova Al massimo Come si trova Non lo so Qualsiasi cosa Lo diamo Per scontato Perché sappiate Fare degli algoritmi Di base E andremo a vedere I costrutti Particolari In questo linguaggio Perché Javascript È un linguaggio Un po' particolare Lo vedremo Ha delle semantiche Un po' particolari È nato Diciamo Per definizione Funziona In modalità Sincrona Perché è un unico Thread E nel web Invece ci serve Fare azioni Indifferenti In maniera indipendente Quindi ci sono Una serie di cose Da imparare Però diciamo Che la sintassi Del linguaggio È abbastanza semplice Ci focalizziamo Sugli aspetti Importanti Per questo corso Di Javascript Poi andremo Andremo a dare Un'occhiata Al browser Quindi All'applicazione Usata per navigare Browser web Dal punto di vista Della programmazione Quindi Javascript Si inserisce Lì dentro È l'unico linguaggio Che è supportato Da tutti i browser E il browser Ci mette a disposizione Una serie di Chiamiamole pure API Quindi delle funzionalità Che noi possiamo Richiamare da Javascript E andremo a imparare Queste cose Impareremo a sviluppare Queste applicazioni web Secondo il paradigma Single page application Cioè Pagina singola Che non si ricarica mai È un po' diverso Da quello che si faceva Diciamo 10-20 anni fa Sulle applicazioni web Dove ogni interazione Dell'utente Si andava verso il server Si andava a chiedere Delle cose Si ricaricava tutta la pagina Ma di questo Riparleremo Ci serve un server Quindi E per il server Useremo questo node Di cui parleremo Al momento opportuno Che sostanzialmente Ci consente Di far funzionare Javascript Anche sul server Questa è più che altro Una comodità Il server è indipendente Dal client E avremmo potuto Scegliere Qualsiasi altro linguaggio Scegliamo questo Perché così Non impariamo Un secondo linguaggio Di nuovo C'è la questione Ai 6 crediti Cerchiamo di stare Nei 6 crediti Il più possibile E comunque Ci sono delle cose Interessanti Da sapere Anche su questo E poi come detto All'inizio Ci avvaliamo Di un framework Una libreria React Che è una Delle più diffuse Se non forse La più diffusa In questo momento Che ci aiuterà Nello sviluppo Delle applicazioni web E quindi Non dover scrivere Da zero Molte funzionalità Comuni Nelle applicazioni web E poi ci dà Anche un approccio Come impostare Applicazioni web Più complesse Ok Questo è il programma Ecco Lo avete qui Come riferimento Mano a mano Che andiamo avanti Sul sito web Del corso Metteremo Diciamo Il calendario Con il link Ah Qui potevo Qui ho scordato Ho dimenticato Di linkare I pdf Delle slide Ma metteremo I vari argomenti Del corso Con il relativo Calendario Ok Lo compiliamo Mano a mano Che andiamo avanti Perché ovviamente Poi magari succede qualcosa C'è qualcosa A cambiare Eccetera E quindi Non andiamo mai Troppo avanti Però ovviamente Abbiamo una pianificazione Di quello che intendiamo fare Ed è quello che trovate Sulla slide Quindi Dedicheremo Le prime due settimane A fare l'introduzione A javascript Quindi Impariamo il linguaggio Fondamentalmente Due settimane Dovrebbero bastarci Anche in base All'esperienza Degli anni precedenti Quindi Ovviamente Non imparare a programmare Come dicevo prima Imparare gli aspetti Peculiari di javascript Tutte le cose particolari Per esempio La programmazione a sincrono Il callback Eccetera Le funzioni Che sono un po' particolari E così via Poi ci dedichiamo Un pochettino Alla parte browser Quindi Ai linguaggi Che ci servono A descrivere la pagina Nel browser Con eventuali Lubrerie di supporto E poi Inizieremo React Faremo Qualcosina Sul server Per riuscire ad avere Un server Con il quale Interagire E alla fine Mettiamo tutto insieme Per riuscire a creare Un'applicazione web Ragionevole Con un minimo Di interazione Col server Con un po' Di autenticazione Che sarà poi Quello Che dovrete fare Per l'esame Adesso Arriviamo All'esame Tra poco Va bene Il corso organizzato In questa maniera C'è questa mattina La mattina del martedì Siamo in questa aula R1 Bella capiente Ho guardato poco fa Siete 180 Iscritti In prima frequenza A questo corso Poi c'è qualche residuo Diciamo Negli anni precedenti Ma ce ne sono pochi Quindi vuol dire che Nell'anno Tipicamente Gli studenti Passano l'esame Che è ovviamente Una buona notizia Per tutti Abbiamo tre ore in aula Alla settimana Cercheremo di sfruttarle Al meglio Cercheremo di fare Anche un po' Di esercizi Mano a mano Che andiamo avanti Ovviamente Oggi è la prima lezione Diciamo Faremo meno esercizi Insieme Però dalla Dalla prossima Proviamo Potete provare Vedo che molti di voi Hanno il computer Con voi Possiamo provare insieme Delle cose Io le proverò Dal vivo Qui sul computer E potete provarla Anche voi Se magari avete dubbi E domande Potete interagire Direttamente Avremo dei laboratori Un'ora e mezza Settimana Per ogni gruppo Ok Ci hanno dato La possibilità Di fare tre gruppi Perché siamo Un corso Abbastanza grosso Come dicevamo prima Inizieremo La seconda settimana Quindi Questa settimana Non c'è Laboratorio Quindi dopo domani Giovedì In aula 7i Faremo lezione Ok Questo ci capiterà Dopodomani E purtroppo ci capiterà Pure un'altra volta Almeno per ora Questo è quello Che abbiamo previsto Perché c'è il 25 aprile Che ci mangia Una lezione in aula E quindi Dobbiamo recuperarne una Ma vi avviseremo A tempo debito Un po' prima Del 25 aprile Quindi occhio che Giovedì Non c'è laboratorio C'è lezione Purtroppo avremo Un'aula un po' più piccola Ho guardato online La capienza è sui 130-140 Visto quanti siamo Stamattina Dovremmo starci tutti Prima vi ho contati Siamo 120 Credo Stamattina Così a occhio E Appunto La prima settimana Facciamo laboratorio Poi c'è questa questione Il 25 aprile Da sistemare In aula Se portate il computer Così come in laboratorio E la cosa migliore Per chi di vuole Vuole provare Se no Ascolta le lezioni E poi prova con calma A casa Facciamo le videoregistrazioni Non facciamo lo streaming live Perché trovo un pasticcio C'è sempre qualcosa Che non funziona E comunque Le mettiamo a disposizione subito Io vado in ufficio L'anno scorso Praticamente Al mezzogiorno e mezzo L'una Erano tutte disponibili Sempre Ok Tranne se c'è proprio Quello giorno Che c'è un impegno Quindi magari Va qualche ora dopo Le mettiamo su youtube C'è un link Alla playlist youtube Dove Dove Mettiamo tutto quanto Quindi youtube Playlist Ovviamente adesso è vuota E' vuota E' vuota Ma Stamattina Al termine Le lezioni Ci saranno I due blocchi Da un'ora e mezza Di stamattina Ok Trovate anche I corsi Dell'anno precedente Non c'è nulla Non c'è nulla di segreto Youtube E' pubblico E' aperto a tutti Chi non è iscritto Qualcuno mi ha scritto Non sono ancora iscritto Non sono ancora iscritto Al corso E posso avere accesso Al materiale Eccetera In realtà Nel materiale Del corso Non mettiamo niente Forse possiamo caricare Le lezioni Così se vi viene più comodo Per scaricare Le video lezioni Ma Diciamo Le trovate su youtube Uguali E E trovate anche tutto Quello che riguarda L'anno scorso Per cui se siete curiosi Andare a vedere Cosa abbiamo fatto L'anno scorso Che dovrebbe essere Abbastanza uguale A quello che facciamo Quest'anno Tranne piccole modifiche Che adesso vi racconto Trovate tutto Quindi c'è già Tutto il calendario C'è tutto il calendario Di quello che abbiamo fatto L'anno scorso C'è il Ci sono i link Alle video lezioni Ma c'è anche lì Una playlist Quindi è comoda Esattamente come Quest'anno C'è il link Al github Dell'anno scorso Si chiama semplicemente 2022 Quindi ci sono già tutte Le slide dell'anno scorso C'è tutto quanto Inclusi I temi d'esame Così Per vostra curiosità Volete andare a vedere Cosa abbiamo dato Gli anni precedenti Potete già andare a vederlo Non c'è nulla di segreto Non abbiamo nessuna Remora Di questo tipo Ok Ecco Raramente Qualche volta Durante il corso Daremo qualche Piccola lettura Da fare a casa Ma abbastanza veloce Ci sono degli argomenti Che secondo noi Non vale la pena Affrontare in aula E sprecare quei Diciamo 20 minuti Mezz'ora Perché Sono relativamente semplici E ci mangiano Del tempo prezioso In cui possiamo fare Cose più interessanti Quindi Ve li diamo in anticipo Gli ho dato un'occhiata Eventualmente Se ci sono dubbi Possiamo discuterne in aula Ma di solito Non creano problemi Per esempio Che so La storia del web Come Che so Le cose sull'html Sull'architettura web C'è il server C'è il client Cose che dovreste In generale Tra l'altro Già sapere Magari quelli di voi Che vengono da fuori Dal politecnico Hanno già pur affrontato In un corso precedente E gli altri Magari hanno affrontato In maniera un po' leggera O solo in parte Ok I laboratori Sono in un'aula Come avete visto La 7i è un'aula E non è un laboratorio Nel senso che Non ci sono i computer Quindi dovete venire Col vostro portatile Se 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 volete venire In laboratorio Per Per fare esercizio Non è obbligatorio Che venite col vostro Potete stare in due In tre Sul portatile Di qualcuno Potete mettermi insieme Eccetera A noi Non interessa Sappiate che In laboratorio C'è sempre qualcuno Ci sono o io O il professor Servetti O il professor Fani Che vi darà una mano E poi ci daranno I borsisti Li stiamo aspettando Stamattina Fanno l'assegnazione Quindi ci sarà anche Un borsista Quindi un vostro ex collega Uno studente Che Che ci Che ci aiuterà Insieme a noi Durante il laboratorio A darvi una mano Metteremo il testo online Qualche giorno in anticipo Rispetto al laboratorio Di solito Sono esercizi Che si dovrebbero riuscire a fare In quell'ora e mezza Di laboratorio Magari non proprio tutto Potete finire qualcosa a casa Così Pubblicheremo delle soluzioni Rispetto all'anno scorso Non facciamo più Consegnare i laboratori Quindi Non so se questa È una buona notizia o no Forse Molti pensano Sia una buona notizia Credo che sia Una buona notizia Sì Insomma Alla fine Anche per voi Se però Cercate di sfruttare Questi laboratori È chiaro che se facciamo Consegnare i laboratori Nei laboratori Vengono molti più studenti Vengono Come dire Soprattutto ridosso Di queste consegne Perché questi laboratori Davano un paio di punti Se ben fatti Davano un paio di punti Per l'esame Ok Quest'anno non c'è più questa cosa Perché abbiamo visto Che l'utilità è limitata E metteva abbastanza stress Gli studenti Poi si focalizzavano Tanto su queste cose Eccetera Quindi abbiamo deciso Di provare a lasciare Questi laboratori Un po' più liberi Però cercate di sfruttarli Al massimo Abbiamo il canale telegram Abbiamo la modalità Di interagire Eccetera Ma non è che possiamo Metterci a debuggare O a risolvere tutti i problemi Tramite questo meccanismo In modalità sincrona Abbiamo 4 ore e mezza Cioè 1 ora e mezza Per 3 Per fare i laboratori E quindi cerchiamo Di sfruttarla al meglio Ecco Cosa facciamo Durante i laboratori Tranne Diciamo I primi Gli iniziali In cui facciamo Prattica Di base Con linguaggio Javascript Eccetera Proveremo a costruire Un semplice progetto Più semplice Di quello che dovrete fare All'esame E Diciamo Portandolo avanti Per alcune Alcune settimane Abbiamo 3 slot Di laboratorio Quindi 3 gruppi Io adesso ho fatto I gruppi Sulla base Del cognome Quindi ho preso L'elenco Tra 4 giorni fa Ho fatto questa divisione Diciamo Primo gruppo Secondo gruppo Terzo gruppo 8 e mezza 10 11 e 30 In realtà Questi gruppi Visto che non c'è Da consegnare I laboratori Non ci sono Problemi particolari Diciamo Sono Potremmo dire Indicativi Io non è che ci tengo Al fatto che vengano Assolutamente Rispettati Perché lo so Che magari c'è qualcuno Che ha problema Arrivare alle 8 e mezza Magari Al treno Deve arrivare alle 9 C'è qualcuno Che magari Nell'ultimo slot Ha un'altra lezione Di qualcosa Eccetera Quindi Regolatevi un po' voi Questa è un'indicazione Che diamo Diciamo Possibilmente Cercate di rispettarla Magari il primo giorno Vediamo quante persone Ci sono Se ci sono Poi meno persone In un gruppo Piuttosto che in un altro Potete pensare Di spostarvi Eccetera Non è che facciamo L'appello Non è che controlliamo Però è chiaro Che se abbiamo l'aula Dunque la 7i Abbiamo detto È da 130 persone Mi sembra Giù di lì E' chiaro Quindi 180 Sono 60 persone Se vengono tutti Tutte le volte Vuol dire che c'è Un banco ogni due Occupato Se arrivano 120 Non ci si muove più In questo laboratorio Quindi Dovete un attimo Regolarvi Però è normale Che ci siano Di laboratori Magari un po' più affollati Un po' meno affollati Che io non ho problemi In questo senso Fino a che riusciamo Diciamo A stare Diciamo In una maniera Ragionevole All'interno del laboratorio I laboratori Hanno le prese elettriche Scusate Ovviamente Dovrebbero funzionare Adesso Ci verifichiamo Però insomma E quindi potete venire Col computer Con l'alimentatore Attaccarlo C'è il wifi Che ci serve Perché per installare Certe cose Per cercare la documentazione Necessaria la rete E Insomma Abbiamo sempre fatto così Con i laboratori Fin dall'inizio di questo corso Non dovrebbero esserci Particolari problemi Mi raccomando Ripeto Di nuovo Sfruttate i laboratori Perché Poi lo sappiamo Che chiaramente Più si va avanti Nel semestre Più avete Altri corsi Che incombono Che vi chiedono Magari di consegnare Delle cose Tesine Eccetera Per i laboratori Sono proprio un momento In cui potete chiedere Qualsiasi cosa Un dubbio sulla lezione Non ho capito questo Possiamo tornare indietro Possiamo parlare Di qualsiasi cosa Ok Quindi è un momento Dedicato a voi E cercate di usarlo Al meglio Il materiale L'abbiamo già visto Sul sito del corso Le slide Sono tutte in inglese Perché Così abbiamo due vantaggi Uno Le teniamo allineate Con gli altri due corsi In inglese Che non è male Così Indipendentemente Dal fatto che fate Italiano e inglese Avete lo stesso Identico materiale E E poi Comunque Un po' di terminologia In inglese Ci serve Tanto tutti Dovreste aver dato L'esame di inglese Dovreste sapere Un po' di inglese E comunque Quando cercate in rete Tanto vale Cercare in inglese Perché si trova Molte più cose E Diciamo E bisogna sapere I termini Se si parla Di Qualcosa Bisogna sapere Come si chiama Ok Abbiamo le video lezioni Sì Il portale didattica Diciamo L'anno scorso Le abbiamo caricate Più che altro Per fare Per far semplice Lo scaricamento Se volete scaricarle Dal portale didattica Cliccate download E ve lo scarica Da youtube Più macchinoso Cercare un software Che se lo scarichi Eccetera E il github C'è tutto il resto Quindi ci saranno Gli esercizi Io mentre faccio Gli esercizi Cercherò di caricarli Anche in diretta Lì sopra Trovate gli esami Le domande a me Tutti che tramite Tramite un sms Qualcosa Che so Quella mattina Uno non sta bene Non può fare lezione Non ho trovato Un sostituto Eccetera Insomma In qualche maniera Vi avviso Ecco Non è proibito Mandare delle email Ma è chiaro Che le email Sono un po' più Lente Un po' più Diciamo Però possono essere Più articolate Che so Se avete un pezzetto Di codice strano Non riuscite proprio A capirci niente Avete una questione personale Che non è bene Discutere sul canale Non sono state bene Non so Ci sono mille problemi Diciamo Personali Che uno non ha piacere Di mettere Pubblico Sul canale Potete tranquillamente Scrivere O parlarne Durante i laboratori Da parte Durante le pause Eccetera Esame Che è ovviamente Uno degli argomenti Più interessanti Per voi E anche per noi Insomma Dobbiamo farli C'è da sviluppare Un progetto Progetto che sarà Un'applicazione web In maniera individuale Quindi ognuno di voi Dovrà fare Per conto proprio A casa Insomma Da qualche parte Ma non insieme Agli altri Prima della scadenza Dell'esame Un progetto Assegnato Che vi darà Fino a 26 punti Ok Perché Gli altri 6 punti Insomma 32 Quindi mi consente Di arrivare a 30 lode Lideremo all'orale Ok Quindi c'è da fare Il progetto In 20 giorni Di tempo Che vuol dire Che C'è l'appello A Non so Mettiamo Facciamola semplice L'ultimo giorno Di giugno 20 giorni prima L'ultimo giorno Di giugno Noi pubblichiamo Un testo Di Di un progetto Da sviluppare Quindi un'applicazione web Da realizzare Con tutto quello Che abbiamo imparato Nel corso E quindi Ovviamente Col client React Col Col server Come abbiamo spiegato Nel corso Ci saranno delle istruzioni Se siete curiosi Appunto Potete già Andare a dare un'occhiata Su Questo è l'anno precedente No Quindi Che so Apriamone uno Tanto C'è una scadenza Entro la quale Va consegnato Spiegheremo Come funziona Il meccanismo Di consegna E tutto quanto Quindi non vi preoccupate Di questo Pubblichiamo un testo E Che sarà un progetto Diciamo Di una certa complessità Ma non esageratamente Complesso È qualcosa che Dovreste essere in grado Di creare In 20 giorni Ma non Di lavoro A tempo pieno Lavorando bene Diciamo In 3-4 giorni A tempo pieno Così Se vogliamo fare una stima Proprio Approssimativa Lavorando bene Non mi pianto Su qualsiasi cosa Se mi pianto Su qualsiasi cosa È chiaro che Non vado più avanti Però Non ci aspettiamo Che vi tenga occupati Più di questa quantità Di ore Però dovete anche capire Che è l'unica cosa Che dovete fare Per passare l'esame Quindi È chiaro che Ci deve essere Una parte Di preparazione Durante il corso Prima Che vi consenta Di fare Poi questo progetto In questi Vi dicevo Secondo me 3-4 giorni A tempo pieno Massimo Cos'è questa parte Di preparazione È aver studiato A aver provato A risolvere Tutti gli esercizi In laboratorio Per conto vostro Provando A scrivere il codice A farlo funzionare Perché questo Sarà il punto Di partenza Dal quale Cominciate a sviluppare Il vostro progetto Per l'esame È chiaro che Se iniziate da zero Prendete gli esempi Che mettiamo online E dovete mettere insieme Dovete ancora capire Come funzionano Il tempo è molto più lungo È tutta un'altra cosa Però se seguite Piano piano Non dovrebbe essere Un progetto Troppo complicato Questa è la nostra esperienza Per gli anni scorsi Poi riparleremo Del progetto L'unica cosa Fate attenzione A non complicarvi Il progetto Inutilmente Noi non ci teniamo Ad avere funzionalità Aggiuntive C'è anche scritto Nell'istruzione Lo ripetiamo tutti gli anni Lo ripetiamo sempre Se una cosa Non è richiesta Se non la fate Non succede nulla Anzi Meglio Perché Avete tempo Per fare Tutto il resto Che invece è richiesto Perché ciò che non è richiesto Non dà punti all'esame Anche se è fatto bene E ciò che invece Non funziona Fa perdere punti E quindi ciò che è richiesto Deve funzionare E funzionare bene Ok Comunque Avremo tempo Di parlare di queste cose Cosa succede Una volta che consegnate Il progetto Il progetto Viene Come dire Caricato Sui nostri server E Lo correggiamo Insieme a voi Durante l'orale Quindi L'ultimo giorno di giugno Adesso dico una data Non ci sono Non credo ci siano Anche le date Ancora degli appelli di giugno Diciamo L'ultimo giorno di giugno C'è da consegnare il progetto Anzi La sera Prima dell'ultimo giorno Se l'appello È l'ultimo giorno Da quel giorno lì Dal giorno dell'appello Ci mettiamo Insieme a voi A correggere i progetti Quindi a fare gli orali Quindi Correggiamo Insieme a voi I progetti Ovviamente Non è che Pretendiamo che Stiate lì A guardarci Tutto il tempo Però ovviamente Gli orali Sono pubblici Chiaramente Chi vuole assistere Un po' di orali Può venire Dà un'occhiata Come funziona Ci mettiamo Ve lo dico già Sui 20-25 minuti A ciascuno Quindi Ci va il suo tempo E il mio collega Servetti Probabilmente Mi aiuterà Il primo appello I primi due appelli Quindi ci sarà Diciamo Cercheremo Di sbrigarci Il più possibile Ma è chiaro Che con questi tempi Anche facendo 8 ore al giorno Come facciamo Diciamo A giugno A luglio Salvo Altri impegni Più di 15-20 persone Al giorno Non passano Però se siamo in due Sono già 40 Quindi diciamo Che 3-4 giorni Al massimo Dovremmo Chiudere il primo appello Che di solito È più grosso Poi Nessuno vi vieta Di venire al secondo appello Al terzo appello E così via Quindi non ci sono problemi Da questo punto di vista L'unica cosa Ogni appello Il tema d'esame Cambia Perché è chiaro Che noi lo diamo Per il primo appello Poi arrivano gli studenti Si discute insieme Eccetera Se uno avesse Lo stesso tema d'esame Per il secondo appello Sarebbe avvantaggiato Perché sa già Come l'hanno risolto Tutti quanti Quali sono stati Gli errori Eccetera E quindi Non sarebbe Equo in confronto I vostri colleghi Del secondo appello Eccetera Quindi Per ognuno Di quattro appelli Daremo Un tema d'esame Diverso Sempre ognuno Venti giorni Prima Della data Dell'appello In realtà Sono cinque Perché c'è anche L'appello Che però Un po' speciale A ottobre Per i Ottobre e novembre Per i laureanni Che però Devono avere Dei requisiti Particolari Possono andare Solo due appelli E devono avere La frequenza Di tutti i corsi Eccetera Quindi In realtà Ce ne sono cinque Ma uno Ha un accesso Un po' particolare Abbiamo tutte Le regole Dell'esame Sul sito Del corso Ve le faccio Vedere Queste sono Importanti Come tutto il resto Però Forse ancora di più Questo è il corso L'anno scorso Ecco Non guardate Quelle dell'anno scorso Che sono leggermente Cambiate Ma noi abbiamo Già messo Quelle di quest'anno Quindi queste Sono le regole D'esame Le ho riportate In inglese Perché così sono allineate Con gli altri due corsi Facciamo l'esame Nella stessa Identica maniera Ok Se avete dei dubbi Sull'interpretazione Sono cosciente Che questo è il corso In italiano Quindi se avete scelto Il corso in italiano Magari vi sarebbe piaciuto Trovare tutto in italiano Ma Diciamo qualcosa Ce lo Ce lo teniamo in inglese Se avete dei dubbi Chiedete Ok Quindi questa è Tutta la storia Leggetela con calma E quello che vi ho raccontato Ok Guarda se Mi sono dimenticato qualcosa Ovviamente ci saranno Delle istruzioni più tecniche Quindi come consegnare Cosa si può fare Cosa non si può fare Che libri si possono usare Cosa non si può usare E così via Ma tutto diciamo Molto ragionevole Chiederemo un'applicazione React Non è che uno può arrivare Con l'applicazione fatta in Angular Non è che uno può arrivare Se abbiamo usato Express Più node Per il server Con il PHP Piuttosto che altre cose Lato server Ma banalmente Perché Poi diventa un pasticcio Provarle Cioè sono 20 minuti 20-25 minuti A ciascuno Se tutto è organizzato Come abbiamo detto Di organizzarlo Se uno comincia A divagare Tutte le nostre cose Che abbiamo preparato Per far funzionare Il Diciamo Il test Del progetto Eccetera Non funzionano più E quindi Diventiamo matti E poi diventa Anche difficile La valutazione Possiamo spendere Ancora magari Due parole Sull'orale Quindi Durante l'orale È necessario Che veniate Preparati E il vostro progetto Ci aspettiamo Che sappiate Tutto Del vostro progetto Ok Quindi Apriamo il codice Vi dicevo Lo carichiamo Sui nostri server Più che altro Per comodità Perché così Non c'è Da arrivare Con computer Scambiare computer Eccetera È già tutto pronto Noi lo apriamo È quello che avete consegnato Siamo anche sicuri Che è quello che avete consegnato E Lo facciamo funzionare Quindi lo proviamo un po' Con l'interazione Col browser Quindi facciamo un po' Di test funzionali C'è Che so C'era Il sito Da ordinare le pizze Clicchiamo un po' Ordiniamo due pizze Vediamo se il totale viene Come funziona l'interfaccia Non si blocca Cancelliamo Ordiniamo Eccetera No Facciamo un po' Di queste prove Insieme Quindi quando c'è qualcosa Che non funziona Siete subito lì E potete subito spiegare Se c'è qualcosa Che non si capisce È stato fatto Diverso Avete interpretato In maniera Differente Strana E così via Quindi c'è subito Una discussione Che è anche una cosa Che aiuta nel test E poi Andiamo nel codice Quindi apriamo Il vostro codice Sia server Sia client In posti Diciamo Significativi No Chiaro che non andiamo A leggerci di import O di require Cioè Non è che ci interessano Però Andiamo a cercare Diciamo Per esempio Se ci sono dei malfunzionamenti Andiamo a vedere Se si trova Che cosa è stato fatto Nel pezzetto di codice Che era responsabile Di col malfunzionamento Quindi dovete essere in grado Di spiegare Cosa avevate in mente Di fare In quel pezzetto di codice E intanto lo guardiamo E così via Ok Quindi È importante Che conosciate bene Il vostro codice Ma di solito Questo non è un problema Perché se l'avete sviluppato voi Lo conoscete bene E che lo ripassiate un po' Perché Perché magari Che so Se uno passa Cinque Sei giorni dopo La consegna Non si ricorda più Eccetera L'importante è ripassarlo Un pochettino In maniera che Se uno chiede Dove è stata implementata Una funzionalità Come è stato fatto Quale componente Si occupa di Eccetera Abbiate un'idea Diciamo Di dove sono le cose E' chiaro che uno Non è che può ricordarsi Tutto per filo E per segno Memoria Però deve essere Almeno in grado Di orientarsi Dentro Dentro il suo codice E si è fatto Delle scelte strane E per strane Intendo Abbastanza diverse Da quelle che hanno fatto Tutti gli altri Deve essere in grado Di fornire una giustificazione Che poi sia giusta Sbagliata Non fa niente E si ragionerà Poi sul vuoto Su cosa ha pensato Eccetera Però già il fatto Che mi fornisca Un ragionamento Che ha portato A scrivere quel codice Vuol dire Che è il codice Che avete fatto voi Ok Si possono cercare Ovviamente Cose online Eccetera Come in tutti gli esercizi Di programmazione Vi dando a fare Un programma E non sapete come fare Cosa fate Come tutti Come faccio anch'io Ma si Questo ordinamento In qualche maniera Si farà Ci sarà una funzione Per fare il sort Non lo so Vado un po' in giro Google Stack Overflow E così via Andiamo a dare un'occhiata Però quello che prendete In giro E portate dentro Il vostro programma Dovete capirlo E saperlo spiegare Ok Quindi se tirate dentro Una funzione Che non abbiamo mai visto Andate a vedere Almeno Come si dice L'istruzione La pagina di manuale Non c'è la pagina di manuale Ma diciamo Le specifiche E sappiate Più o meno Come funziona Ok Cioè Non si può sentire All'esame Si viene penalizzati Se uno dice Ho trovato questa roba qui Non sapevo come farlo Ho visto che funzionava L'ho messo dentro Però non so come funzioni Ok Questo non è accettabile Anche se funziona Bisogna Saper spiegare Come mai funziona Il codice Il codice javascript Abbiamo imparato il linguaggio Dovesse essere in grado Di spiegarlo Se avete usato Le librerie E sulle librerie Ci possiamo ragionare Eventualmente Potete chiedere Su Telegram Si può usare questa Si può usare quella Tendenzialmente Non ci saranno Da usare grandi librerie Non ci aspettiamo Che ci siano Da usare Librerie particolari Oltre a quelle Che raccontiamo Nel corso Per esempio Una libreria Per gestire le date Sì per forza Perché se ci sono Delle date Non è che ci mettiamo A fare i conti Con i giorni Mesi Anni Che diventiamo matti E la libreria Per accedere al DB È chiaro che Ci serve una libreria Per accedere al DB Non è che ci mettiamo A scrivere le funzioni Noi E così via Però Non è che c'è Tanto altro Da usare Ok Comunque Date un'occhiata A queste cose Ed eventualmente Ne riparleremo Ok Questo ve l'ho raccontato A grandi linee Che ti dico solo Che cosa c'è da fare C'è da sviluppare Un'applicazione web Fatta in React Più JavaScript Perché React Si programma in JavaScript Sul lato server Ci sarà Node Che è un sistema Per far girare JavaScript sul server Express è una libreria Che usiamo Per fare un server web In Node Scritto in JavaScript Già pronta E quindi noi Dobbiamo concentrarci Solo su scrivere Il codice Che risponde Alle richieste Del client SQLite È la libreria Che ci sente usare Un po' di database Perché avremo bisogno Un piccolo database Sul lato server Ok Quindi per questo Nei prerequisiti del corso C'è scritto SQL Perché useremo Un minimo di SQL Per interrogare Tre o quattro tabelle Che progetterete voi Per fare L'applicazione web C'è Che so Il testo D'esame Che chiedeva Di ordinare le pizze E Ci sarà La tabella Ordine Ci sarà la tabella Che contiene Non so I tipi di pizza E così via Dovete fare un po' Di select Insert Eccetera Per memorizzare Le informazioni E estrarre informazioni Quando c'è bisogno Ma non è nulla Di così complicato Ok Le specifiche pubblichiamo 20 giorni prima Da fare individualmente Da caricare Su github Classroom Che non è nient'altro Che Un normalissimo Github Solo che La prima volta Vi dovete registrare Con il vostro account Github Che potete già iniziare A creare adesso Se non ce l'avete E Comunque ci saranno Le istruzioni tecniche Faremo anche una prova Prima della fine del corso A consegnare qualcosa Così che non ci siano problemi Per la consegna vera Del progetto L'anno scorso C'erano i big lab E quindi la prova Era implicita Quindi c'erano Da consegnare I laboratori Quest'anno non c'è più E quindi ne facciamo una Così che uno Insomma Non si pianti Proprio per la questione La consegna E La facciamo girare Sui nostri computer Su un linux Fate attenzione Che usiamo un linux Ma c'è scritto Nelle istruzioni tecniche Quindi c'è la questione Del case sensitive Sui nomi dei file Che non hanno Ne mac Che ne windows E poi Diamo un'occhiata Al codice Come abbiamo detto Questo ve l'ho raccontato Quindi valuteremo Nell'orale Quanto conoscete bene Il codice Quello che avete fatto Le scelte progettuali E Come rispondete E se rispondete prontamente Se siete sempre lì A pensare Se Questo funziona Sì Funziona Ma perché Non sono tanto sicuro E così via Piuttosto che Ma sì Funziona Perché una promise È fatta così Perché quando fallisce Passa in questo catch E ci dà Eccetera Eccetera Ok 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 Risorse Qui trovate Queste slide Sono disponibili Quindi questi link Sono cliccabili Nelle vostre slide E quindi Ci sono una serie di risorse fondamentali Di fatto c'è la guida Di javascript Che noi consigliamo A mdn La mozilla developer network Che è la più Diciamo la più Secondo noi Ben fatta E comoda Da consultare Poi ovviamente C'è il sito di react Per le questioni relative A react Ci sono dei libri Onestamente Io non Cioè Li mettiamo giusto Per riferimento Se qualcuno è curioso Ha bisogno di un libro Perché si sente meglio A leggersi un libro Boh Ci sono questi Però secondo noi Non sono assolutamente necessari Ok Ed è pieno di libri Perché oramai Tutti fanno applicazioni web Quindi tutti scrivono libri Su queste cose Ok Ci sono tante risorse online Qui ci sono un paio di link A delle cose che riteniamo Abbastanza ben fatte Perché online Trovate di tutto Ci sono anche delle cose Un po' mal fatte O che magari inducono un po' In errore Perché magari sono troppo semplici Semplificano troppo le cose Eccetera Questi secondo noi Sono ragionevoli Ci sono anche dei libri online Quindi non sono cartacei Insomma ci sono tante risorse Qui avete solo da esplorare un po' E come vi dicevo E poi come in tutti Diciamo i corsi Di programmazione C'è sempre Google Il vostro motore di ricerca Piuttosto che i siti Più specializzati Stackoverflow E così via Che magari hanno già Delle risposte Delle domande fatte Domande magari anche comuni Perché in tanti In tanti incocciano Negli stessi tipi di errori O questioni Da risolvere E quindi di lì potete Trarre ispirazione E ovviamente Nei laboratori chiedete I laboratori Siamo lì Nei laboratori Spesso siamo lì A guardarci il cellulare Al soffitto E voi lavorate Va benissimo Se siete in grado Di lavorare Per quanto vostro Va bene Ma se avete dei dubbi Chiedete Perché siamo lì Apposta Anche su questioni Organizzative Come organizzo L'applicazione Ma l'API Di cui parleremo Ma javascript Ma perché c'è Questa funzione Non quell'altra Che vantaggio c'è O fare così Piuttosto che cosa Ho visto online Questo ma non mi convince Ma come mai Eccetera Quindi chiedete Ecco L'ultima cosa Che strumenti usiamo E vi invito A provare A metterli su Per la prossima volta Se venite Con il vostro computer Se lo fate a casa Lo fate poi con calma Allora Usiamo Il browser E questo è facile È già preinstallato Praticamente Su tutti i computer Avete un browser Io vi consiglio O Chrome O Firefox Per quando useremo React Può venire Utile Il React Developer Tool È un'estensione Se voi andate nel menu Delle estensioni Lo scaricate La installate E ci fa vedere Diciamo Le componenti Gli stati Proprietà Eccetera Che può essere comodo Ma di per sé Il browser È già uno strumento Utile Di suo Perché Ha già Un interprete JavaScript Integrato Dunque Dove sono I Browser Console No Questa è la browser Console Ho sbagliato Volevo farvi vedere Un'altra cosa Inspector Web Developer Tools Ok Questo è il browser Standard Non è che ho installato Un browser speciale Questo c'è su tutti Forse Tranne su quelle Applicazioni mobili Ma Diciamo Quello è naturale Quindi Potete Potete fare Quello che volete Console Questa è una console JavaScript Se scriviamo Del codice JavaScript Facciamo così Giusto un esempio Live Ciao Ciao È un interprete JavaScript È dentro il browser C'è dentro Chrome C'è dentro Firefox C'è dentro Sostanzialmente Qualsiasi browser Quindi è già uno strumento Di per sé Ovviamente Per fare le prime cose Per il resto Ci servirà Un ambiente di sviluppo Noi vi consigliamo Visual Studio Code Che è gratis Scaricabile Open source Per tutte le piattaforme Quindi c'è per Windows Linux Mac Qualsiasi cosa Usiate La versione Non è così importante Supporta tantissimi Linguaggi Tra cui JavaScript Supporta anche L'integrazione Col git Quindi quando avremo Da caricare Scaricare da git Viene anche comodo Ci fa l'highlighting Ci fa tutto quello Che è necessario fare Per Per vedere il codice Dopo Nell'ora e mezza dopo Ve lo faccio vedere Ecco i primi esempi E poi Diciamo Con relativa calma Ma non troppo Node.js Che è Un interprete Del codice JavaScript Che gira Sul pc Localmente Perché per eseguire Il pc O siamo dentro Il browser Eseguire il javascript O siamo dentro Il browser Però dobbiamo Aver già creato Una pagina web Aver caricato Il codice javascript E così via E questo lo impareremo Ma nelle settimane successive Oppure adesso Che noi Impariamo A scrivere JavaScript Dobbiamo avere Qualcuno Che esegue JavaScript E il Visual Studio Code Non è Un ambiente Di esecuzione Ok Cioè Ha la possibilità Di cliccare Debugare Eccetera Ma ha bisogno Di qualcosa Che esegua Il codice Per noi E questo qualcosa E nod Installate la versione 18 Non la 19 La 18 Lts 18. Qualcosa Fa lo stesso Lts Sta per Long Term Support Perché In queste cose Praticamente Ogni pochi mesi Esce una nuova versione Non possiamo correre dietro A tutti questi Cambiamenti Che ci avvengono pure Durante il corso Ok Quindi Diciamo che Se voi mettete La 18 Long Term Support Diciamo che Long Term Per modo di dire Però almeno Un anno Ci dura E sostanzialmente Riusciamo a finire L'anno Con la stessa versione Quindi se voi date L'esame A Che so Gennaio Sia sempre Tutti sulla 18 L'abbiamo provato Tutti sulla 18 E va bene così In realtà Non è che ci siano Tutte queste differenze Così significative Per il livello A cui usiamo noi Linguaggio Però Se siamo tutti Sulla stessa versione Un po' più comodo Ok Direi che qui Abbiamo finito Quindi vi chiederei Se ci sono domande O dubbi Vi rispondo volentieri Se avete domande O dubbi Più privati Facciamo pausa adesso Quindi potete Avvicinarvi Chiedermi E se no Appunto Facciamo un pochettino Di pausa E Tra 5 10 minuti Riprendiamo E cominciamo Col corso E quindi Abbiamo già La prima Sede di slide Online C'è una domanda C'è una domanda Fermi tutti All'orale La domanda Lo dico anche Per chi ci segue Registrati All'orale La domanda Possiamo Rifiutare il voto E rifare l'appello Sì Perché con questa modalità Oramai sì Negli anni scorsi Dicevamo no Ma visto che Non conoscete il voto Prima di aver finito L'esame Sarebbe un po' Ingiusto Non consentirvi Di rifarlo E' chiaro che Non ci fa mai piacere Anche per voi Avete sviluppato Un progetto E poi questo Viene cestinato Perché se volete Fare un nuovo appello Dovete fare un nuovo progetto Quindi Potete sempre decidere Di non venire all'orale Di Non consegnare Non c'è nessuna penalità Se uno non consegna Quindi Uno guarda il testo Gli piace Non gli piace Le piace Non le piace Decide se farlo Lo fa gli ultimi tre giorni Lo fa Inizio venti giorni prima Eccetera Può anche consegnarlo Se non viene Non fa niente Amici come prima Ok Però se non viene Ovviamente Non ha un voto Di riferimento Ok Va bene Direi che Non ci sono Ancora una domanda Una domanda Eh no Non sento Scusa Giovedì Gli slot Sono solo due Giustissimo Bravissimo Dov'è che Eh Giovedì Facciamo dalle 8.30 Alle 11.30 Lo metterò anche su Telegram Quindi quest'ultimo slot Non lo facciamo Li facciamo tutti e due insieme Come lezione Quindi venite tutti Per entrambi gli slot Ok Però 8.30 11.30 Basta Grazie Allora pausa E tra dieci minuti Facciamo L'inizio corso Grazie Grazie Grazie